Ciao ragazzi benvenuti in questa partita classificata Oggi siamo in una delle mie mappe preferite Ovvero la casa Come vedete è completamente giorno Perché questa mappa a me piace giocarla di giorno e non di notte Come capita molto spesso Allora Ash vedi di non farmi esplodere No 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 fammi andare avanti a me Te l'avevo detto io fammi andare avanti a me Che io Ho qui Lo schiudo E in teoria con lo schiudo Non dovrebbero infliggermi danno Buono Fantastico nessuno ha preso termite Me ne sono accorto adesso Ma si può essere così furbi Nessuno ha preso termite Io non ci voglio credere Io mi rifiuto di crederci Porca vacca Eh amico Nessuno ha preso termite 5 Faccio una granata 8000 colpi E la gente non muore Vuoi piazzare sta bomba Oh Dai muovete Io non ci credo Io non ci voglio credere 2 contro 2 Ma io mi metterei fuori Ah no non possiamo Bravo Ottimo 2 contro 1 Ma ancora non ci credo Lo scudo fasullo A meno che quello non salti giù dalla finestra No è là Perfetto vinto Ed eccoci qua nella camera dei pampini E ho preso il dottore ragazzi Perché ho il P90 con questa mimetica bestiale Poi con la pistoletta d'oro Quindi ragazzi oggi vi salverò tutti Non temete Bravo Fagli fuori subito così Bravissimo Io così Dovrei avere Messo un po' di timore Ma non vedo nessuno Come non detto Fatemi entrare Ok Ah ma io c'ho ancora queste Perfetto 5 e 3 Ma qua è tutto chiuso Fantastico Fantastico ragazzi No Quello è il mio compagno di squadra I nemici hanno già abbandonato Mi rendi conto L'ho shottato Ferimento Più 50 Che è fuori Attraverso il muro L'ho ferito Cioè vi rendete conto La violenza di Bistard Ok però adesso Non facciamo gli spavalli 4 contro 2 Vabbè 4 contro 1 L'hai visto Bravo Bravo Cavolo Violenza Dove cavolo andava quella A cercare le margherite nel campo Ed eccoci qua Terzo round Abbiamo già individuato Tutto quanto ho individuato io Tutte le bombazze Allora adesso Andiamo con calma In piano superiore Bravo 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 Che volevi fare te Magari potevo lasciarlo in vita Così arrivava Il compagno di squadra E lo massac... Porca vacca go Sbagliatato ragazzi Sono sceso Molto Rapidamente Chi ha la bomba? Boh io no Vabbè io entro anche Olè Ultimo attaccante rimasto in vita Com'è l'ultimo? Che cavolo è? Che cavolo era il tipo Che l'ha ucciso col coltello Voglio proprio vedere Là dentro? Ah nell'angoletto Ah io avevo sparato là no? E come ultimo round Siamo nel garage Sempre il dottore Ha voluto scagliere Perché nel round di prima Se non ricordo male Mi ha portato fortuna Quindi ragazzi Lo riprendiamo Molto volentieri Qua Piazzo Oppure il mega rinforto Ah sono solo in due Gli avversari? Eh complimenti Soltanto in due Ah Vabbè Ragazzi Queste partite fatte in questa maniera Non è che siano proprio Fantastiche Quando I nemici quittano così violentamente Come ben sapete Anche Se si perde 3 a 0 C'è la prova mia Ragazzi Anche registrata qua su youtube Che si possono vincere le partite Io ragazzi Ho vinto partite Con 3 a 0 Quando si perdeva 3 a 0 Arrivano dall'altra Il nemico ti scoprirà Se rimani in questa zona Ti hanno spiegato Torna indietro Oh Nessuno Che cavolo sono Sti maledetti nemici Dai avanti Perdete sto round E basta Maledetti Ah loro vogliono Ah si sono fermati Nel loro spawn Alla dietro Mi sa E aspettano Che noi arriviamo là Se stanno belli freschi Allora Ma stanno molto freschi Quarto round vinto Così Ma almeno Attaccate Dov'è chi era Ve l'ho detto io che erano giù in fondo Ah era là sopra Sì vabbè A posto così ragazzi Una vittoria perfetta 4 a 0 E ditemi Se anche voi Morite con lo scudo Là davanti Così A caso Spero ragazzi Che il video vi sia piaciuto Io vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo Al prossimo video Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Sì Northwestern